che c'è piccola oh 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 ti detesta benvenuti nella landa degli evocatori 30 secondi alla generazione dei nini un'altra giornata di lavoro ma ho sempre detto che ero grande per la mia età sono tutti critici non salto mai la colazione non 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 a adesso mi presento a me uno spuntino un uccisione nemica un nemico è stato ucciso qualcuno sta per farsi male scuola un nemico è stato ucciso non sono morbido come sembrò come butta un alberato è stato ucciso un alleato è stato ucciso dovrai prendermi un completto rimbalziamo alziamo è stato ucciso 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 Sì, è vero. a me uno spuntino non dispiacerebbe si non sono morbido come sembra come butta un nemico è stato un alleato è stato ucciso un alleato è stato ucciso un nemico 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 è stato ucciso non serve fare così un alleato è stato ucciso un nemico è stato ucciso la tua torre è stata distrutta un'altra giornata di ora la tua torre è stata distrutta un nemico è stato ucciso furia nemica non ho solto male la colazione la tua torre è stata distrutta la tua torre è stata distrutta la tua torre è stata distrutta questa torre è stata distrutta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti